Guardate cosa mi sono ritrovato ragazzi, è stato insomma anche un modo per ringraziarmi, insomma per... io collaboro da diversi anni con Teleton, eccolo qua, guardate. Radio Zeta Sud Italia, è difficile capire chi soffre e difficile aiutare chi offre. Ma voi oggi ci siete riusciti. Buona visione. E per concludere in bellezza, mi prendo anche un po' di questo. Grazie. 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 Grazie.